Perché i mercati finanziari non scendono? Come mai durante una fase di grande recessione, di grande blocco della produzione, dove i dati fondamentali del sistema economico sono, a dirlo in maniera con un eufemismo, diciamo così, sono disastrosi? Perché i mercati hanno premuto l'acceleratore e ogni swing ribassista, che sarebbe una gamba quando il mercato va giù, viene ricomprato pesantemente dal mercato, che punta ancora una volta, soprattutto per quanto riguarda il mercato tecnologico americano, quindi il Nasdaq, punta ancora una volta a nuovi massimi storici. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi, oggi guardiamo i mercati finanziari, i mercati azionari e facciamo le nostre analisi. Facciamo analisi ciclica, analisi tecnica dei mercati americani, Standard & Poor's 500 e Nasdaq e poi guardiamo anche il Fuzzinib Italia e il Petrolio, ragazzi, perché sono dei titoli, degli strumenti finanziari che sto tenendo sotto controllo già da un po' e soprattutto abbiamo iniziato qui all'interno del canale nella nostra analisi ciclica per i mercati americani, che vi dico francamente sta anche funzionando abbastanza bene, perché Standard & Poor's 500 e Nasdaq hanno fatto esattamente quello che vi avevo accennato la scorsa settimana con la loro struttura di limbalzo. Ma, dico subito una cosa, vi faccio uno spoiler per quanto riguarda questo video, spoilerone, no vabbè, io ho fatto una serie di calcoli, una serie di analisi anche la scorsa settimana, vi avevo accennato la possibilità che Nasdaq 100 in questa fase potesse andare a tentare un nuovo massimo, mentre era un po' più pericoloso, un po' più deboluccio l'S&P 500, ragazzi. Ma lo vediamo oggi perché in effetti ci sono due punti di vista differenti. Prima di andare però a vedere i grafici, prima di andare a fare l'analisi ciclica, vi chiedo ragazzi di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto lasciatemi un pollicione in su per questi video di analisi e fatemi sapere quello che pensate voi e come vi state comportando sul mercato azionario, come avete valutato questa fase di rimbalzo. Io ho delle idee in testa, ma sono veramente tante ragazzi che analizzano questa ripresa, ne ho parlato anche con diverse persone e penso di fare un video a tal riguardo, ogni volta me lo riprometto, ma poi ragazzi il tempo è quello che è, ci sono sempre news e novità sui mercati finanziari e quindi magari questo video lo rimando, però un giorno lo farò, ve lo prometto. Allora andiamo a vedere il grafico di S&P 500 dietro le mie spalle ed eccolo qui. Allora ragazzi vi avevo accennato alla possibilità che una fase ciclica del mercato fosse in una parte di ciclo mezzano, quindi una fase a metà ciclo, LSB 500 ha fatto il suo ribasso, esattamente quello che vedete qui in questa parte qui ragazzi. Dove è andato ad appoggiarsi? È andato ad appoggiarsi esattamente sul supporto a 3000 che vi avevo accennato la scorsa settimana e che coincideva perfettamente anche con la media mobile, questa è una media mobile a 22 periodi su time frame daily. Ora ragazzi da qui in poi andare a comprare in buy the dip era possibile, vi avevo accennato anche questo, quindi chi di voi lo ha fatto ha in questo momento un profitto da gestire. Però questo è il sunto della situazione, il fatto che il mercato si è appoggiato sul precedente livello di 29.065 circa, che è stato un pullback perfetto ragazzi, questo è sempre per chi dice che l'analisi tecnica non funziona, quindi un pullback perfetto sul precedente livello di resistenza, ora è diventato un livello di supporto, area psicologica 3000 ha funzionato da spartiacque, c'è anche da dire che sui mercati old le aree psicologiche hanno un rilievo tanto e non quanto, non è come il mercato crypto, quindi ragazzi un po' tutto quello che era la fase negativa e l'eventuale poi livello di target del ribasso sono stati raggiunti rispettati dal mercato. C'è anche da dire che il mercato sta appoggiandosi su una trendline, ve la disegno immediatamente ragazzi, ed è una trendline così costruita, vedete, prima passava da qui, adesso tecnicamente potremmo indicarla come pullback, ma io come molti sanno insomma le trendline le disegno in maniera differente, diciamo questo è un canale di trend che sta seguendo l'SMP500, c'è però da dire un discorso diverso dal punto di vista ciclico e questo è un po' da valutare ragazzi, qual è? Allora questa fase di ripresa è una metà del ciclo che dovrebbe andare a chiudersi verso fine mese di giugno, la prima decade del mese di luglio, e questa fase ragazzi potrebbe portare i mercati finanziari a ritracciare ulteriormente o a fare barra di congestione, però se la teoria ciclica verrà rispettata S&P500 dovrebbe da qui in poi o tentare di rompere i suoi massimi, come vi avevo detto nella view precedente, in una view che potremmo indicare come view positiva, e poi andare a fare la chiusura del ciclo in questo modo, potrebbe fare questo tipo di atteggiamento, oppure ragazzi potrebbe non arrivarci mai e bloccarsi su questo livello, dopodiché riprendere a fare una struttura di questo tipo per chiudere il ciclo magari di nuovo in aria, 2.900-2.800 punti, quindi questa oscillazione in quest'area sono un po' tanti, 2.900-2.800, 2.900 direi 2.800 e 8.800 insomma in questa fase qui, e ragazzi questa è la view ciclica che potremmo definire negativa, questa fase poi tra l'altro di rimbalzo ragazzi coincide anche con il livello di Fibonacci, adesso ve li ho disegnati qui, vediamo se riesco a farli un po' più evidenti, questo livello in pratica di Fibonacci di dello 0.78.6, quindi SP ha rimbalzato, vedete, ed è andato a impattare con il 0.78.6 di questa fase di ritracciamento, questa struttura, questo pattern che io utilizzo spesso nella mia Trading On Academy, lo analizziamo con tutti gli iscritti premium, si definisce Gatekeeper ragazzi, lo abbiamo studiato anche nell'Academy diverse volte, e questo pattern i mercati golden ogni tanto lo seguono ragazzi, quindi è un po' pericoloso, ovviamente il pattern non si è verificato, ve lo spiego velocemente, ovviamente per gli approfondimenti rimando alle letture del libro dove viene citato questo pattern, che è il libro di Dave Landry. Allora ragazzi, in pratica, questa fase di rialzo, in pratica, dovrebbe, secondo questo pattern, potrebbe essere una fase di termine di questo rimbalzo, dopodiché bisognerebbe aspettare un breakout al ribasso dei mercati, quindi un break in pratica così, da qui in poi verrebbe presa un'eventuale posizione di bassista, e potremmo avere questo tipo di trend. Quindi Fibonacci ci indica in questo momento anche una fase di pericolosità per quanto riguarda l'S&P 500, quindi le posizioni in questo momento long sono sbagliate, allora è giusto quello che dicono che i mercati dovranno ritracciare? No, non è così ragazzi, questa è una fase ciclica del mercato, intanto il trend di breve e medio periodo è rialzista sui mercati finanziari, però probabilmente, secondo quelli che sono gli apporti ciclici, diciamo la struttura dei cicli di S&P 500, potremmo avere una fase di riflessione da qui a fine mese. E questa cosa la dobbiamo considerare, anche perché S&P è leggermente meno robusto di Nasdaq, infatti se noi andiamo a vedere Nasdaq, come vi avevo già accennato la scorsa settimana, lo stesso ciclo lo sta facendo anche Nasdaq, e Nasdaq 100 ha fatto identicamente questa sua fase di pullback, chiamiamola così, sui precedenti massimi, ma vedete come non li rispettano mai, i mercati old sono completamente diversi, bisogna ragionare in termini di ampiezza di movimenti ragazzi, un po' di volatilità lo dovete sempre considerare, però si è appoggiato su una media, di nuovo la media che funziona benissimo, questa 22 periodi, un po' troppo ripida per l'andamento del Nasdaq 100, quindi dovrebbe un pochettino piegarsi, quindi mi aspetto un trend leggermente meno ripido nei prossimi mesi, se dovesse continuare questa fase di alzista, ma da un punto di vista di andamento, vedete, del ciclo, anche qui c'è stata una close, e una ripresa del mercato. Ora, Nasdaq potrebbe ancora fare nuovi massimi, perché ancora la fase, sono tre giorni di rialzo, potrebbe avere spinta, però è chiaro che in questo momento i massimi precedenti rappresentano il vero scoglio per il Nasdaq 100, quindi 10.000 sono 10.155 per essere precisi, sono uno scoglio ragazzi, perché il mercato potrebbe decidere anche in questa fase di andare a tentare un doppio massimo e poi una chiusura ciclica di questo tipo, per prendere un po' di fiato. La view invece rialzista, che è quella che i mercati sempre cercano in questa fase, è questa ragazzi, c'è una rottura e poi un eventuale pullback di rientro in questo modo. Abbiamo due view differenti, anche qui il discorso del ritracciamento di Fibonacci non è lo stesso che per quanto riguarda l'S&P 500, vi faccio capire perché. Vedete ragazzi, perché qui l'S&P 500, il Nasdaq 100, scusate, ha superato il 78.6, non è insomma proprio un gatekeeper, è un po' più forte, non diciamo molto più forte, perché ancora non l'ha superato di slancio, però potrebbe farlo anche nella giornata di oggi. Quindi ragazzi, c'è da attenzionare questi movimenti sui mercati. Qual è un'operatività che potremmo prendere in considerazione? Chi di voi in questo momento non ha posizioni magari sul mercato americano, potrebbe un po' attendere la fase di fine mese di giugno-luio, sapendo ovviamente che i mercati potrebbero comunque fare i nuovi massimi, oppure attendere a questo ritracciamento, questa fase ciclica di rientro, di respiro del mercato. Mentre per quanto riguarda invece il mercato italiano, ragazzi, vi faccio vedere il mercato italiano. Intanto tutti questi gap, ragazzi, che sta facendo il Fuzzimib Italia, sono terribili, e indicano comunque la pericolosità anche del momento. Sembra diventata una penny stock, cioè ragazzi, la pericolosità significa l'eccesso di volatilità, chiaramente il nostro indice, essendo chiuso quando i mercati americani sono aperti, a parte l'after hour che comunque non funziona con i grandi volumi, ragazzi, subisce eventuali gap. Però, non so se notate, e credo molti di voi lo stanno già vedendo, la struttura ciclica esattamente identica, vedete, a quel del mercato americano. Sì, perché comunque è difficile che i nostri mercati non seguano quelli americani. Anche qui una close potrebbe avvenire intorno a fine mese di giugno, la prima decada di luglio, quindi in quella fascia temporale. E anche qui, ragazzi, per quanto riguarda il mercato italiano, attenzione, perché potremmo avere la view ribassista, che è questa, oppure potremmo avere la view rialzista di un nuovo massimo, sopra questi qui, e poi un eventuale close. attenzione, quindi, in questo momento, a entrambe queste posizioni, quindi a assumere delle posizioni con una view unica, perché siamo in una fase ciclica delicata. Questo è il significato di questo tipo di analisi. Finiamo poi con il petrolio, che è delicatissimo in questa fase, in questo momento di fase ciclica anche lui, ma soprattutto, non mi va di analizzare un poterista ciclico, perché il ribasso che ha fatto precedentemente le manipolazioni presenti sul mercato del petrolio, non mi rendono quel tipo di analisi, secondo me, molto valida in questo preciso momento. Quindi preferisco analizzare due livelli di supporto e resistenza, per quanto riguarda il petrolio, per indicarvi quali sono i livelli da monitorare, perché molti sono ancora long su questa commodities, perché lo so, ragazzi, perché in Academy molti dei miei iscritti sono andati long a inizio movimento rialzista, quando avevo fatto il primo video che parlavo del petrolio, vi dicevo che era possibile, diciamo, questa fase. Poi io avevo fatto un'operazione intraday, alcuni di loro invece l'hanno continuata multiday. Allora, guardate i due livelli per quanto riguarda il contratto del futures sul petrolio, ovviamente dovete considerare sempre il rollover a fine mese, lo sappiamo, ragazzi, quindi bisogna aggiornare poi il contratto, ma questi sono due livelli che indicano uno spartiacque fra la continuazione di questo trend rialzista per quanto riguarda il mercato del petrolio e invece una fase di nuova capitolazione. In pratica la chiusura di questo gap si è sentita, il mercato l'ha sentita molto l'8 giugno da che ha fatto il massimo a vicino i 40 dollari e poi ha iniziato a ritracciare. Ma ancora una volta, la famosissima media mobile a 22 periodi tiene il trend di mercato, benché lo possiamo vedere in maniera evidente, sta curvando, quindi si sta immettendo in una fase di trading range. Quindi petrolio lateralizza in questo momento all'interno di questi due livelli 40 e 34 dollari più o meno e 20 qui sotto. Ancora una volta subirà sicuramente la fase ciclica dell'S&P 500, quindi valutatela perché il petrolio da qui a fine mese potrebbe ancora una volta spingersi sopra questa resistenza solo nel momento in cui i mercati probabilmente americani faranno nuovi massimi. Io la vedo in questo modo, altrimenti lateralizza attenzione a rotture di 34 perché potrebbero innescare dei movimenti di ribasso che magari i ragazzi potrebbero anche andare a impattare intorno ai 30, 29 cioè il pullback di questa area perché sono due le aree di pullback vedete, 29 e poi questa giù a 26 quindi in quest'area qui se dovesse esserci un po' di panico sui mercati potrebbe arrivare. Io non mi piace investire nel lungo periodo nel petrolio molti di voi lo sanno ma ho delle stocks italiane le ho comprate tempo fa sono già in Forte Game intorno all'8-10% quindi le tengo ancora in questo momento ma ovviamente abbastanza monitorati. Bene ragazzi siamo arrivati alla fine del video analisi a multispettro su tutti questi mercati fatemi sapere quello che pensate e soprattutto che ne dite ci becchiamo ancora una volta con queste analisi vediamo se saranno giuste anche la prossima settimana e quanta roba si può fare chi di voi è trader lo sa quanto trading si può fare quando si hanno queste informazioni e un po' c'è la visione chiara di cosa aspettarsi da qui ai prossimi giorni alle prossime settimane fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti